Stavo pensando di girare un film sul tracciato delle mura medievali di Milano e ripercorrere i vari punti di questo tracciato dall'alto dei palazzi. Sant'Ambrogio doveva essere appunto uno di questi punti. Avevo chiesto già in passato di salire così per curiosità quindi poi è venuto automatico iniziare da lì a riprendere e quando ho visto il primo materiale, le prime riprese, poi il progetto è cambiato totalmente e ho scelto di restare lì.